Ci sono solo due nazioni all'interno dell'area Ocse che vanno in controtendenza. Gran Bretagna, dove i redditi reali delle famiglie crescono dello 0,2%, Italia, dove i redditi delle famiglie crescono dell'1,4%, cioè sette volte più della media degli altri paesi. Perché abbiamo preso tutti i soldi che avevamo e li abbiamo messi su questo obiettivo. Dopodiché, sufficiente? No, chiaramente. Bisogna continuare a lavorare, soprattutto sulla competitività del nostro sistema. Il tema della produttività è un tema che chiaramente si incastra anche nel contesto internazionale in quale ti muovi, ma sulla competitività noi possiamo fare tanto e su questo il PNRR può fare la differenza. Cioè quando noi abbiamo rinegoziato il PNRR, abbiamo inserito il Repower U e ci siamo concentrati per esempio sulle infrastrutture energetiche. Perché? Perché le nostre aziende pagano l'energia più di quanto si paghi negli altri paesi europei. E' ovvio che se tu paghi l'energia molto di più degli altri, già parti col meno e già parti con una competitività che non ti viene garantita. Le infrastrutture è la stessa cosa. Guardi, io ho scelto di nominare un ministro alle politiche del mare. Perché? Perché noi siamo una piattaforma nel mezzo del Mediterraneo. E il Mediterraneo è il luogo d'incontro dei due principali bacini del commercio mondiale che sono l'Indo-Pacifico e l'Atlantico. Cioè noi siamo potenzialmente in una posizione fortunatissima che non siamo mai riusciti a cogliere nella sua interezza perché ci mancano le infrastrutture di collegamento. E allora il tema di lavorare sulle infrastrutture, strategie di lungo periodo, e di utilizzare il mare stesso come un'infrastruttura diventa un tema. Quindi la questione della competitività è dobbiamo avere una strategia. Noi stiamo mettendo in campo quella strategia. Anche tutto il tema del rapporto con l'Africa risponde a quella strategia perché noi abbiamo il problema della migrazione. Chiaramente vogliamo fermare l'immigrazione illegale. Dopodiché siamo i dirimpetai dell'Africa. Possiamo mettere insieme una serie di interessi. In Europa c'è un problema di approvvigionamento energetico. L'Africa è potenzialmente un enorme produttore di energia. Perché l'Italia è interessata a mettere insieme le due cose? Perché noi siamo la porta d'ingresso. E quindi se riusciamo a portare investimenti e far produrre energia per quella che non produciamo noi e che non è sufficiente per il resto d'Europa ai paesi africani, quell'energia transiterà attraverso l'Italia. E questo porta lavoro, porta ricchezza, porta competitività.